La lente di ingrandimento, ovvero l'approfondimento su temi specifici che nascono dalle cure primarie per le cure primarie. Una buona serata a tutti quelli che ci ascoltano su Radio Web Cure Primarie. Questa sera vi proponiamo una lente di ingrandimento su un tema abbastanza negletto, che è l'algodistrofia. Il titolo della nostra serata è Algodistrofia e Propriatezza Diagnostico-Terapeutica. Ne parleremo con un gradito ospite che ci ha accompagnato nelle ultime due trasmissioni relative al percorso della riabilitazione, che è il professor Stefano Masiero, ordinario di medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Padova e direttore dell'Unità Complessa di Neuro-Riabilitazione dell'azienda ospedaliera di Padova. Grazie Stefano di essere qui con noi. Io partirei subito con introdurre la serata chiedendoti di inquadrare l'algodistrofia. Grazie, grazie dottor Massimo Fusello, grazie ovviamente a tutti coloro che sono collegati e grazie soprattutto per la pazienza di riascoltarmi, spero di non annoiarvi, perché l'argomento è molto stimolante, molto interessante e come è stato preannunciato dal dottor Fusello anche qualche volta un po' misconosciuto, poco considerato e questo lo rende particolarmente interessante, secondo me questa sera per parlarne rende l'argomento particolarmente interessante. Direi subito di partire con la prima slide, cerco di partire per rispondere alla domanda del dottor Fusello proprio con una slide un po' così stimolante, se posso dire, e questo succede molto frequentemente negli ambulatori, sia penso di medici in medicina generale, sia anche negli ambulatori specialistici e noi vediamo talvolta un referto tipo questo, io ho preso solo il pezzettino, la frasetta che ci interessa, voglio sottolinearla, vedete, il referto di questa radiografia dice marcata iperintensità del segnale in STIR, estesa marcata iperintensità del segnale in STIR della spongiosa ossea, compatibile con frattura intraspongiosa o algodistrofia. Potete immaginare che c'è una bella differenza a parlare di frattura intraspongiosa o di algodistrofia, però sicuramente questo è un elemento che dimostra quanto sia ancora difficoltosa una diagnosi o un percorso diagnostico e quanto ancora tanto ci sia da conoscere in questo ambito e se noi guardiamo intanto chiariamo un po' questa radio, questo esame risonanza magnetica, vedete che c'è un'area che segno con la freccia più chiara, iperintensa ed è proprio quell'area a cui si riferisce questo referto, quindi noi abbiamo un'area iperintensa che potremmo tradurre invece con un altro termine che forse ha una maggiore migliore definizione, cioè che è un edema intraspongioso. Allora, che cosa produce questo edema e perché è importante e perché non deve essere confuso con l'algodistrofia, perché spesse volte proprio questa terminologia frattura intraspongiosa, algodistrofia e talvolta anche in certi referti troviamo edema, osseo, mette molto a confusione. Allora vado mostrando anche un'altra risonanza, poi arriviamo un po' a chiarire questo aspetto, vedete anche in questo esame strumentale, come vedete, se noi andiamo a vedere il referto troviamo esattamente un po' la stessa definizione e ve lo vediamo nell'ambito vertebrale e questa iperintensità o alterazione comunque sia in T1 che in T2 e la vediamo in tutte queste immagini che in qualche maniera possono rappresentare, vedete, un altro tipo di problema che è invece un fenomeno infettivo, quindi vedete la stessa manifestazione può essere alla base di alterazioni diverse. Allora che cosa rappresenta questo edema? Anzi faccio ancora un altro esempio ma per spiegare un po' meglio perché questo problema è diventato così importante. È diventato così importante perché noi lo abbiamo imparato a conoscere sottoponendo i nostri pazienti alla risonanza magnetica ed è proprio la risonanza magnetica che ci ha permesso di mettere in evidenza questa alterazione edematosa del midollo osseo, si chiama, spesse volte viene anche proprio detto in termini inglesi bone marrow edema, che riflette probabilmente una modalità specifica di definire un problema che tipicamente compare, vedete qui, varie rappresentazioni a livello femorale, a livello di caviglia, a livello di ginocchio e a livello di colonna vertebrale, quindi che ha varie possibili cause che stanno alla base, ma che purtroppo delle volte viene proprio etichettato anche con il termine algodistrofia e quindi dobbiamo porre molta attenzione proprio per questo motivo. solitamente, anzi, non solitamente, ma sempre, l'edema viene rappresentato in T1, la risonanza magnetica in T1 pesata, ipointenso, in T2 hiperintenso e nella soppressione di grasso hiperintenso. Allora, l'edema, quindi questa alterazione che la vediamo tipicamente comparire nelle manifestazioni e nelle valutazioni con risonanza magnetica, non sappiamo ancora quale sia la principale causa o la causa che sta alla base di questa manifestazione. Qui vi ho portato un articolo abbastanza recente dove si elencano le ipotesi che possono stare alla base le ipotesi fisiopatologiche, quindi sostituzione del midollo osseo con un materiale più ricco di liquidi, oppure un'aumentata pressione intraossea che può causare direttamente un'irritazione delle strutture neurovascolari intramidollari, oppure ancora una produzione locale di citochine in seguito a traumi, possia o acidosi locale. Quindi vedete, siamo ancora, siamo ancora in cerca di una causa ben chiara, forse più fattori intervengono, ma molto interessanti invece è l'immagine che vedete alla destra, il riquadro che vedete alla destra perché, come vedete, queste sono tutte cause che possono stare alla base di questo edema osseo che noi, come ho cercato di fare, di sottolineare, lo andiamo a individuare con una risonanza magnetica, quindi un trauma, quindi avete visto il ginocchio, una degenerazione, l'osteoartrosi, un problema infiammatorio, un problema vascolare e proprio anche l'algodistrofia, quindi l'algodistrofia può essere una di quelle manifestazioni in cui vi è la presenza appunto per l'appunto di edema, ma anche poi, come vedete, fenomeni infiammatori oppure cause iatrogene dopo interventi medici di vario tipo. Quindi, come vedete, parto da questo aspetto perché molte volte viene identificato un edema con algodistrofia e qui, con questa slide successiva, voglio proprio mettere in evidenza l'edema osseo, il bomaro edema, non è l'algodistrofia, ma è una manifestazione che può e che solitamente è sempre presente quando c'è l'algodistrofia, ma può essere presente, come avete visto, in moltissime altre situazioni. L'algodistrofia in realtà è un termine, come vedete da questa immagine, io ho portato solo alla vostra attenzione alcune definizioni, allora chi è meno giovane ricorderà che queste alterazioni, questa alterazione algodistrofica in passato ha avuto una serie di nomi qui avrei dovuto portarmi in una lunga lista, ma vi metto solo quelli più frequentemente utilizzate, Morbo di Sudec, Causalgia, rappresenta proprio il tutto per dire che non si sapeva che cosa era, la cosiddetta distrofia simpatico riflessa, perché inizialmente si pensava a un problema simpatico, cosa che assolutamente è stata smentita, il termine algodistrofia che è stato e viene ancora direi utilizzato correttamente, ma più propriamente oggi parliamo invece di CRPS, ovvero Complex Regional Pain Syndrome, questa è forse la dicitura internazionalmente più accettata di questa condizione, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa alterazione? Sì, in effetti la semantica aiuta ad aggiornarci, molto spesso molte patologie, ci sono stati i nomi successivi che si sono seguiti nel corso del tempo e forse abituarci appunto a parlare del Complex Regional Pain Syndrome, a questo punto potrebbe essere lo standard un po' per tutti, sostituendo anche questa edizione di algodistrofia, ma perché è importante conoscere questa sindrome? Direi che la spiego con una slide che mi ero preparato, che è subito questa, perché allora, innanzitutto dico due cose di premessa, è importante perché il titolo che avete scelto, che mi avete affidato, è veramente secondo me azzeccato, perché è una sindrome gravata da un importante ritardo diagnostico, quindi molte volte noi la diagnostichiamo molto tardi, uno dei motivi è proprio quello che vi ho appena detto, viene scambiata per qualcos'altro e quindi o non si pensa a questa situazione qui, ma quello che è importante è che grava in una maniera così importante sotto vari punti di vista sulla paziente e su tutta la sua famiglia e soprattutto anche su aspetti cognitivi che adesso poi vedremo anche forse un po' più in dettaglio, quindi questo è legato al ritardo della diagnosi. Poi il secondo aspetto perché è importante, perché guardate, vedete anche in questa slide, interessa persone fra i 40 e i 60 anni dal punto di vista della percentuale, quindi persone in età lavorativa che avendo una disabilità così improvvisa e importante può veramente essere particolarmente grave, soprattutto perché appunto sono persone in età lavorativa e il tasso di incidenza non è proprio così bassissimo, si calcola grossomodo un'incidenza di 26 casi su 100.000 persone per anno, privilegiando il sesso maschile 1 a 4 rispetto a quello femminile. La localizzazione più frequente è quella di coinvolgere un intero segmento di stale, o la mano o il piede, molto più raramente bilateralmente, o molto più raramente può essere anche interessata la spalla o il ginocchio, però sono casi molto più rari. Però vorrei sottolineare da quella immagine che vedete un po' il comportamento di questa situazione, che come ho detto è gravata da un carico notevole familiare psicologico, neuropsicologico, comportamentale, perché questo è un bellissimo lavoro, forse non so se si vede anche l'anno recentemente pubblicato, dove si vede proprio il classico, quello che succede in un paziente che ha questo fenomeno di Complex Pain Regional Syndrome. Il paziente inizialmente inizia a avere consapevolezza, ha questo forte dolore improvviso, vedremo, e a un certo punto pensa che sia una delle cose che si possono risolvere, quindi abbastanza speranzoso che il problema si risolva, poi inizia a fare dei trattamenti non a beneficio, inizia a girare, cercare qualche specialista, vedere se ritrova una soluzione, non trova nessuno che gli dà una risposta adeguata, perché come vedremo i farmaci sono molto pochi che trattano questo tipo di problema e anche devono essere somministrati con una particolare modalità, che poi rivedremo. Poi alla fine prosegue in questa sua ricerca, a un certo punto quasi disperato, tenta le ultime sue carte, vedete, ma intanto compaiono delle alterazioni proprio dal punto di vista psicologico e anche relazionale e poi alla fine è disperato, la sua disperazione, e noi vediamo questi pazienti dopo settimane che hanno questo problema, vengono in ambulatorio e sono veramente disperati perché non trovano una soluzione a questo problema e il dolore è un dolore veramente assolutamente invalidante che si ripercuote poi anche sulla famiglia. Allora vado velocemente per dare un po' una definizione, ne ho prese due, ve ne leggo solo una che sono abbastanza simili, ma che cos'è questa sindrome? È una sindrome regionale, come avete visto, che si sviluppa a seguito di un evento scatenante con manifestazioni cliniche che sono sproporzionate rispetto ad esso, a questa causa che le ha prodotte, e sono caratterizzate da edema, alterazione del microcircolo cutaneo, vedremo eritrosi, importante sintomatologia dolorosa che è quella che impatta maggiormente sulla persona e come dicevo prima anche sulla famiglia, disturbi sensitivi quali allodinia, iperalgesia, e con una importante impotenza funzionale. Come dicevo prima, nella classificazione c'è la forma classica, c'è una sua forma classica, che è quella più frequentemente, c'è anche in realtà una forma tipo 2 che può avere anche un coinvolgimento nervoso, molto più rara. Infine segnalo che recentemente, ma solo proprio per segnalarlo, la letteratura ha riconosciuto anche una forma cosiddetta non altrimenti specificabile, non altrimenti classificabile, che non è simile né al tipo 1 né al tipo 2, quindi qualche autore potreste trovare, ha individuato anche questa terza forma, ma ancora in via di definizione con maggior chiarezza. Quali sono i criteri diagnostici? Quelli sono ormai criteri che conosciamo da un certo numero di anni, che vedete qui sono caratteri di Budapest, e sono rappresentati per fare una diagnosi, quindi noi dobbiamo avere alcuni elementi obbligatori, quindi innanzitutto un dolore continuo, sproporzionato all'evento scatenante, e questo è il primo elemento che caratterizza la diagnosi, quindi ho questo paziente che ha un dolore, e non è proporzionale all'evento traumatizzante o all'evento chirurgico, perché vedremo che potrebbe essere scatenante. Poi il secondo elemento, il paziente deve riferire la presenza di almeno un sintomo in tre delle quattro delle seguenti categorie, e quindi alterazioni sensoriali, alterazioni vasomotorie, alterazioni sudoromotorie e motorie, come vedete, atrofiche, come vedete non leggo tutto ma lo potete vedere, quindi almeno un sintomo in tre delle quattro queste categorie, e poi ancora deve essere obiettivabile almeno un segno in due o più delle seguenti categorie, quindi alterazioni sensoriali, iperalgesia, oppure alterazioni vasomotorie, quindi evidenza di alterazioni del termotatto, oppure ancora edema, o evidenza di edema, oppure alterazioni motorie. E poi infine, quarto elemento, assenza di un'interpretazione diagnostica evidente. Quindi, tutto sommato, la diagnosi, come vedete, è una diagnosi abbastanza anche specifica, perché devono essere presenti questi elementi, ma sicuramente, se noi le prendiamo in considerazione con attenzione, ci può guidare nella diagnosi, insieme poi vedremo agli strumenti diagnostici. Quando si parla di evento scatenante, ecco, questi sono i principali eventi scatenanti, e il principale evento scatenante è un evento traumatico, può essere una frattura, può essere una distorsione, può essere un intervento chirurgico, può essere un periodo di immobilizzazione, ad esempio, a seguito di una frattura. Avete quindi eventi che sono comuni nell'ambito sanitario, quindi non si può dire che siano eventi particolarmente specifici. Quindi è un evento specifico che può stare alla base della comparsa di questo quadro. Solo un cenno alla, diciamo, alla fisiopatologia del problema. Allora, ci sono mare di articoli su questo, l'ho riassunto in quattro righe, proprio una slide. Qual è la causa che mantiene, che scatena e mantiene il dolore? Probabilmente, la più probabile è quella del rilascio locale di neuropeptidi pro-infiammatori e di alcune citochine che rappresentano probabilmente l'evento scatenante che mantiene le prime fasi della malattia, mentre nelle fasi successive probabilmente è un disturbo del microcircolo che sembra mantenere il meccanismo patogenetico e che poi è anche responsabile, lo vedremo nella slide successiva, anche di alterazioni distrofiche. Per questo è importante intervenire terapeuticamente nelle prime fasi, perché se blocchiamo il processo infiammatorio iniziale, nelle citochine infiammatorie iniziale, forse riusciamo a bloccare l'evoluzione di questa condizione. Inoltre, nel mantenimento e comparsa del dolore, ricordate, vi è anche probabilmente, tra i fenomeni ipotizzati, una sensibilizzazione periferica o centrale, quindi un'alterazione, chiamiamola, della plasticità corticale o midollare nella modalità di manifestazione e di percezione della sintomatologia dolorosa che poi può autoalimentare il proseguo e il mantenimento, diciamo, della manifestazione dolorosa. Ecco, le famose tre fasi conosciute, la fase edemigena, il primo stadio, quella caratterizzata principalmente dal dolore, dall'aludinia, dalla alterazione della sensibilità, quindi dalla sproporzione tra un evento traumatizzante e le manifestazioni cliniche. La fase poi distrofica e atrofica, le metto un po' insieme, in cui poi scompare un po' la manifestazione di edema, come vedete si riduce, ma si va incontro ad alterazioni cute e fredda, deficit funzionale articolare, atrofia cutanea, atrofia muscolari, e quindi con delle rigidità, quindi con delle conseguenze funzionali particolarmente spiccate e particolarmente disabilitanti. Chiaramente l'evoluzione ha dei suoi tempi, servono mesi, però se non trattata, il rischio è che il quadro possa evolvere verso questo tipo di evoluzione, verso questo tipo di risultato. Grazie. Ma alla luce quindi di questa descrizione un po' eziopatogenetica, quale si può pensare che sia il percorso diagnostico? Perché francamente è un po' tutto e un po' niente, c'è una specie di nebbia, mi pare, perché si confonde con mille altre cose, tranne i casi eclatanti sicuramente. Qual è il percorso diagnostico più appropriato da poter porre per un medico di famiglia che si trova di fronte a questi problemi? Questa è una domanda molto importante, allora io proseguo nella mia descrizione perché mi ero preparato ovviamente tutto un percorso che comprende anche la diagnosi e allora se pensiamo a esami di laboratorio non perdiamo tempo, non serve, non cuore farne. Se pensiamo alle radiografie neppure perché le alterazioni radiografiche sono specifiche, non c'è nessuna alterazione specifica, eventualmente compaiono solo nelle fasi avanzatissime della malattia quando ormai il quadro è già diagnosticato, come vedete qui, questi piedi, dove c'è una atrofia dei piedi, un osteoporosi chiamata chiazze, che è tipica, ma siamo in un quadro già molto avanzato, qui il paziente ha già partito le pene diciamo tra virgolette molto molto severe. Se pensiamo alla scintigrafia ossea, per esempio, diciamo che avrebbe una sensibilità importante, ma è molto specifica, cioè la ipercaptazione, quindi la scintigrafia marcata con tecnezio, avrebbe sicuramente una sua utilità per fare una diagnosi, però è molto specifica, quindi sicuramente potrebbe essere uno strumento da utilizzare, però teniamo presente che è uno strumento che ti dà delle manifestazioni prima della comparsa la malattia, ma sono manifestazioni aspecifiche, quindi sicuramente ci può perlomeno fare pensare a questo aspetto, ma non ci fa fare una diagnosi. Oggi ormai l'esame principe, l'esame che viene utilizzato per fare una diagnosi è proprio questo, la risonanza magnetica, quindi da un punto di vista strumentale, se l'ipotesi è quella che sia un'alterazione di questo tipo, sicuramente la risonanza magnetica è oggi l'esame, ego standard, perché ci mette appunto in evidenza quelle alterazioni, quella sindrome da edema midollare e chiaramente va vista in T1, in T2, come ho detto prima all'inizio e si fa già come vedete qui evidente, si rende già evidente a 48 ore dall'esordio della sintomatologia dolorosa. È chiaro che anche questo è un esame che da solo non può far diagnosi, come tutte le volte gli esami strumentali da soli non sono diagnostici, bisogna accoppiarli, bisogna associarli ovviamente al quadro clinico tipico, quindi se noi siamo di fronte a una situazione di un paziente che ha avuto un trauma lieve o un intervento chirurgico quindi che ha delle manifestazioni cliniche tipo quelle che abbiamo prima in qualche maniera ripercorso velocemente anche se velocemente e con un quadro di questo tipo di risonanza magnetica possiamo dire che possiamo arrivare a una diagnosi precoce e quindi anche aprire un percorso terapeutico precoce. Qui solo tanto per fare un cenno quando si parla di diagnosi differenziale non voglio fare confusione non mi metto neanche a leggere ma guardate quando si vuole mettere in diagnosi differenziale questa condizione quante ipotesi noi dovremmo mettere in diagnosi differenziale. Si possono sì guardare chiaramente alcune sono molto rare altre sono molto più frequenti però ripeto un esame strumentale come la risonanza magnetica ci dà informazioni molto precoci se abbinata allo strumento clinico sicuramente si può portare a una diagnosi anche precocemente. Dunque da quello che dici è chiaro che si presuppone che spesso anzi qualche volta ci auguriamo ci sia un ritardo diagnostico che un po' anche specie in quest'ultima slide che ha fatto vedere la quantità enorme di patologie con cui fare diagnosi differenziali che poi non sono neanche trascurabili quindi richiedono a loro volta un approfondimento può allungare i tempi e nel frattempo il paziente soffre di forti dolori ma soprattutto si sta avviando a un percorso di cronicizzazione estremamente invalidante perché abbiamo visto che comunque termina in un'atrofia sicuramente dolorosa ma dopo aver parlato di queste difficoltà di ritardi diagnostici quali sono gli interventi terapeutici possibili nelle CPRS allora innanzitutto mi permetto ancora di sottolineare che quanto più è precoce la diagnosi maggiori sono le potenziali possibilità terapeutiche e quindi di risultato finale questo è il punto diciamo cruciale di partenza allora vi faccio vedere questa questa pubblica questo lavoro che è stato pubblicato purtroppo forse non si vede l'anno perché l'ho tagliata mettendola su ma l'anno scorso questo è uno studio dove avete il titolo della slide percorso diagnostico tardivo tentativi 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 ho tradotto un po' qualcosa che c'era nell'abstrat di questo lavoro è molto interessante perché questi autori hanno cercato un po' di andare a vedere un po' in letteratura un po' i lavori pubblicati hanno fatto un gran bel lavoro per dire cosa non si fa cosa si fa in questi in questi malati o nel sospetto di questa situazione guardate il blocco nervoso gli steroidi gli antidepressivi gli anticonvulsivanti la combinazione anticonvulsivanti antidepressivi l'agopuntura terapia iperbarica i farmaci narcotici la stimolazione spinale quindi un intervento per la per il dolore spinale le catemine abbinato poi guardate anche a destra terapia fisica e supporto neuropsicologico e così via quindi c'è di tutto e di più come dal punto di vista degli interventi però se poi andiamo a leggere bene l'articolo purtroppo tutti questi interventi poche volte portano a dei benefici quindi risultati l'impatto poi positivo è piuttosto debole allora proviamo a fare un po' di chiarezza ma ve l'ho fatta vedere perché proprio perché non c'è una terapia e quando il paziente arriva in ritardo e poi anche giustifica quello che vi ho detto prima quando il paziente arriva in una fase avanzata prova un po' di tutto un po' di più quindi ricerca anche terapie le più incredibili in assoluto pur di trattare il suo dolore allora proviamo a fare un po' di chiarezza non con questa slide ma questa è solo ve la metto solo perché velocemente la guardiate per dire quanti farmaci e quante terapie questa è un'altra slide che riassume sono state provate almeno sulla base di ricerca della letteratura per trattare questi pazienti allora come dicevo prima proviamo a fare un po' di chiarezza perché forse individuiamo un po' i farmaci per categoria allora parlerò dei farmaci e poi parlerò delle terapie fisiche che forse sono gli unici due strumenti che hanno un po' di base di letteratura tutto il resto lascerei perdere nell'ambito della terapia medica farmacologica allora prendiamo le categorie di farmaci più utilizzate che sono i bifosfonati che sembrano essere la classe farmacologica che offre maggiore evidenza di efficacia e in particolare una molecola che è il neridronato è quella che ha offerto e che vedremo poi porto anche un paio di lavori che sembra essere quella che si è utilizzata precocemente dai migliori risultati anche il clodronato o l'edronato può possedere un buon profilo di efficacia però servono dosaggi molto elevati che non sono ancora stati utilizzati ma che comunque potrebbero in futuro rappresentare anche un'altra potenziale possibilità terapeutica mentre per i fans non vi sono sufficienti conferme di efficacia non sembrano servire mentre gli steroidi sembrano avere un po' di efficacia per il contenimento della sintomatologia dolorosa nelle prime fasi in particolare il predilisonone per tutti gli altri farmaci che spesso a volte vengono utilizzati l'opioidi paracetamolo capsicina antidepressivi pregabalin carbamazepina purtroppo non ci sono evidenze sufficienti di utilità a scopo antagico qualcosa è stato ottenuto con il gabapentin però molto 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 limitato quindi probabilmente i bifosfonati sono la categoria che noi dobbiamo prendere in considerazione il trattamento e sottolineo precoce perché probabilmente inibiscono la proliferazione e l'attivazione dei monociti e dei macrofagi quindi contrastano il microcircolo l'acidosi lattica quindi quella fase iniziale di probabili aumento della pressione intramidolare forse intervengono proprio sulle citochine come vi dicevo prima nel meccanismo fisiopatologico quindi bloccano l'infiammazione ecco il motivo per cui vanno utilizzate precocemente e poi probabilmente interferiscono sul segnale periferico dei nocicettori e quindi bloccano la trasmissione dell'informazione dolorosa quindi probabilmente queste azioni giustificano i loro benefici terapeutici e vi faccio vedere un paio di lavori questo è un lavoro ormai che ha qualche anno ma che ha rappresentato la base che giustifica quindi questo utilizzo di questa categoria di farmaci con efficacia ed è ovviamente un bifosfonato che è il neridronato in questo studio in doppio cieco è stato utilizzato 100 mg in endovena in 10 giorni quindi in totale 400 mg di neridronato rispetto al placebo e veniva utilizzato in pazienti che avevano circa questa patologia da circa un mese da circa un mese e i risultati sono eclatanti rispetto al placebo come potete vedere e assolutamente significativi nell'ambito di nel tempo di 40 giorni il paziente vedete aveva una significativa riduzione della sua sintomatologia dolorosa e di più il gruppo placebo inoltre che dopo un washout di 10 giorni veniva trattato con la stessa modalità altrettanto rispondeva in maniera significativa quasi ugualmente al paziente trattato inizialmente e questo è un dato sicuramente interessante quindi l'algodistrofia è sicuramente una condizione che può trovare beneficio dal trattamento con questa forma di pulsosfonato che ovviamente qual è l'unico problema che deve essere fatto in dei hospital in ospedale e in endovena per questo recentemente è stato fatto anche un altro interessante lavoro dove è stato utilizzato in eridronato per via intramuscolo e questa volta invece con iniezione intramuscolare che per 16 giorni 16 iniezioni giornaliere con un dosaggio quindi identico di 400 miligrammi quindi per favorire anche un utilizzo extra ospedaliero e il risultato come vedete sempre scelgo solo la parte del dolore che è la clou del trattamento quindi il paziente ha male quello che chiede per primo di essere trattato e guardate partiamo più o meno da una stessa categoria di dolore circa 80 millimetri o 8 se volete di vas e il risultato siamo sui 30 come il farmaco somministrato per endovena quindi anche in via intramuscolare il risultato è stato sovrapponibile alla somministrazione quindi dell'endovena quindi concludendo dal punto di vista farmacologico oggi possiamo dire che la categoria di farmaci a cui dobbiamo fare riferimento sono probabilmente in questo momento sulla base dell'attuale letteratura e i biofossonati in particolare nel ritornato con un utilizzo di 400 mg che abbiamo visto essere efficace sia sedato per via endovena sia sedato per via intramuscolo chiaramente con modalità diverse l'endovena sono 4 somministrazioni intramuscolo sono 16 somministrazioni e sottolineo l'efficacia sembra essere maggiore nella fase iniziale della malattia quindi se riusciamo a stoppare a bloccare il processo infiammatorio iniziale probabilmente il risultato è decisamente abbiamo molte più probabilità di avere un risultato ottimale finale infine per chiudere si può fare anche della fisioterapia in questi due o tre minuti soltanto per arrivare a dire c'è indicazione a fare fisioterapia e quali fisioterapia ecco anche qui ho fatto mi permettete due slide una generale ecco anche qui sono state provate tantissime terapie riabilitative terapie manuali neuro-riabilitative agenti fisici e guardate si va dalle mobilizzazioni dei massaggi dall'infodernaggio dagli esercizi dalla mirror therapy esercizi proprio per cercare di imbrogliare la trasmissione del dolore tra virgolette terapia cognitivo comportamentale e poi ai campi magnetici alle onde d'urto onde vibrazionali e terapia iperbarica purtroppo devo dire che la letteratura ha dimostrato che pochissimi di questi interventi hanno dato beneficio o comunque un piccolo sollievo della sintomatologia o una riduzione della sintomatologia dolorosa quindi trovano indicazione come sottolineo sotto un eventuale utilizzo quando con il farmaco non ci sono risposte o in associazione all'utilizzo del farmaco e comunque quelle che sembrano essere più efficaci nel trattamento di questa condizione clinica sono soprattutto i campi elettromagnetici pulsati oppure le onde d'urto ovviamente che vanno somministrate da personale esperto perché possono incrementare la sintomatologia dolorosa iniziale e poi vi sono anche e vi è anche in regione Veneto l'indicazione specifica la terapia iperbarica nonostante la letteratura non sia rigogliosa in nessuna di queste condizioni ci sono alcuni lavori alcuni vi ho portati come di esempio ma non troviamo tantissimi lavori a conferma dell'efficacia di questi interventi terapeutici con agenti fisici però io in genere quando ho questi pazienti cerco di abbinarli insieme alla terapia medica oppure in quei pazienti che non hanno avuto risposta alla terapia medica che non hanno quindi una terapia medica una terapia medica che in qualche maniera ha prodotto dei significativi risultati oppure un risultato solo parziale ecco che un trattamento di appoggio con di supporto di associazione con campi magnetici oppure con le onde d'urto campi magnetici sono interventi che il paziente può fare anche a casa quotidianamente per parecchie ore durante la giornata le onde d'urto sono una serie di sedute che si fanno settimanalmente dipende 4-5-6 volte eccetera oppure la terapia iperbarica che sono cicli di terapia iperbarica che vengono proposti per 14-15 volte e quindi ecco che anche questo tipo di intervento può essere utilizzato quindi in conclusione cosa possiamo dire per concludere la prognosi di questi pazienti e la difficoltà diagnostica rende difficile quindi talvolta un intervento precoce ed efficace però devo dire che alcuni pazienti rispondono positivamente alle terapie mediche e appunto quando possiamo abbiniamole pure anche quelle energie fisiche a cui ho fatto un cenno si tratta al inizio quando l'algodistrofia agli esordi e la prognosi è migliore però ci sono una categoria di pazienti purtroppo che nonostante i trattamenti continuano a avere una manifestazione dolorosa assai disabilitante e lì poi il quadro si complica e anche qui non ho risposte poi per poter dire cosa possiamo fare si proverà a fare anche energie fisiche e con la speranza poi che piano piano il quadro vada incontro a una risoluzione ecco quindi siamo di fronte ancora a una condizione dove non abbiamo certezze terapeutiche però abbiamo qualche informazione in più rispetto agli anni passati che dobbiamo mettere in atto partendo da una diagnosi precoce e utilizzando i farmaci quanto più precocemente possibile eventualmente abbinati a energie fisiche vi ringrazio per l'attenzione grazie a te Stefano intanto è arrivata qualche domanda quindi sono le 9.40 quindi le facciamo un po' velocemente per concludere nei tempi che ci prefiggiamo in genere c'è una domanda che dice si può dire che al minimo sospetto iniziale intanto posso prescrivere il prezzinissone assolutamente sì perché io è una cosa che faccio che faccio anch'io vabbè non si deve dire così ma diciamo è suggerito nel sospetto iniziale di utilizzarlo assolutamente sono d'accordo sì c'è una domanda con cosa si confonde questa patologia però mi pare che nelle diagnosi differenziali l'hai più sì tra l'altro io immagino che le slide poi sono a disposizione uno la può rivedere se andate su quella slide dove ho messo un po' tutte le manifestazioni vedete si va dall'osteoartrosi tanto per fare un cenno alla trombosi venosa profonda proprio per fare i due estremi ma poi ne vedrete tantissime c'è proprio una slide dedicata e un'altra domanda dice in che tempo si passa alle alterazioni del microcircolo allora i passaggi non sono scanditi da un tempo definito nel senso due mesi tre mesi solitamente la prima fase la prima fase quella ed emigena ha una durata che può essere da uno a tre mesi solitamente i tre mesi noi dovremmo comunque cercare di fare un intervento efficace almeno entro il primo mese secondo il massimo perché dal terzo mese il rischio di evoluzione verso questo quadro diventa assai importante quindi se ho capito bene entro il primo trimestre il responsabile primario è la citochina le citochine e i mediatori e infiammatori per poi passare al microcircolo subito dopo e poi c'è una domanda che forse un po' provocatoria e dice si può chiedere risonanza magnetica urgente con questo sospetto in ricetta? allora cioè da un punto di vista non direi che è provocatoria è molto importante nel senso mi piace questa domanda posso posso dire perché sarebbe secondo me ammesso che sia fattibile farla ecco questa che è la cosa più difficile forse penso proprio che se nel caso il paziente avesse un sospetto di questo tipo penso che andrebbe fatta perché si permetterebbe di fare una diagnosi immediata e un trattamento immediato con la possibilità di risolvere il quadro subito perché quel lavoro che avete visto che i pazienti sono stati trattati mediamente a 40-45 minuti se andate a leggere con un po' di attenzione quelli che avevano un latenza più piccola più breve di tempo sono quelli che hanno avuto il maggior risultato quindi quanto più presto noi facciamo la diagnosi tanto più probabilmente noi riusciamo a ottenere un risultato con la terapia medica quindi la mia risposta sarebbe proprio sì anzi posso anche aggiungere il massimo se posso qualche volta l'ho scritto ho fatto una visita e è venuto una persona va bene privatamente ecco dico così non potendo fare io la ricetta ho messo cortesemente al collega se può prescriverla con criterio di urgenza non so se poi è stata è stata possibile perché è stata recente ecco ma però direi di sì ecco scusa se mi sono permesso di fare una una cosa personale e una e un'altra domanda dice lavoro in medicina di gruppo si può fare la perfusione endovenosa nell'ambulatorio di medicina generale attualmente no viene fatta solo nei centri che hanno il riconoscimento in questo momento sono solo quelli ospedalieri però può essere fatta il trattamento intramuscolo quello può essere fatto anche fuori solo che non è attualmente riconosciuto dal servizio sanitario nazionale quindi il paziente se lo deve comprare c'è anche Sofia che dice che chiede se sono stati rilevati casi di algodistrofia o simili in seguito alla vaccinazione di covid anti covid allora sono stato molto attenti adesso molto attento perché stiamo facendo anche alcuni studi proprio specifici sulle esiti post covid come riabilitazione fra le manifestazioni che l'oms ha messo nel suo disegno totale ecco questa condizione non è riportata quindi mi vien da dire di no però se rispetto a quello che l'oms ha scritto nelle manifestazioni se chiedete a me nella mia modesta esperienza ma non vale niente non ho visti ma non vale niente quello che dico io perché ho visto una percentuale ridotta ovviamente di quello che è l'insieme però se noi andiamo l'oms definisce e mette fuori una lista di quelli che sono gli esiti non è riportato almeno questa condizione clinica ho capito poi l'ultima domanda quanto tempo bisogna proseguire con la terapia di neridronato no no sono è una terapia definita nel caso si fa l'infusione endovena sono quattro sedute che vengono fatte nell'arco di dieci giorni poi si può portare anche a quindici ok e non di più nel caso dell'intramuscolo sono sedici fiale che vengono fatte una one shot un giorno solo no 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 16 fiale una al giorno ho capito e quindi sì perché avevo capito io diversamente quindi sono sedici fiale una al giorno quindi per sedici giorni sì esattamente ok perfetto e allora non ci sono altre domande mi pare che sono arrivate quindi ti ringraziamo della tua disponibilità e anche per averci aperto un po' una luce su questa sindrome che io credo capiti e a me è venuto in mente un paio di pazienti che forse ce l'avevano e ai quali io non ho assolutamente riconosciuto il problema anzi una volta mi ricordo bene che uno ero sicuro che fosse una trombosi venosa profonda e quindi ben venga anche questo chiarimento per poter vederci meglio in questo problema allora intanto Stefano ti ringrazio per la tua disponibilità per la tua precisione e competenza in materia e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato dandoci appuntamento alla prossima trasmissione di Radio Web Cure Primarie buonasera a tutti buonasera grazie abbiamo trasmesso la lente di ingrandimento un appuntamento di Radio Web Cure Primarie grazie a tutti coloro che ci hanno seguito grazie a tutti a tutti grazie a tutti